Qualche problemino per René Pallebigi che non riesce neanche andare a allinearsi. Parte in terza fila René Pallebigi. Si va con Rendena Jet veloce insieme a Rodrigo Bip ma si apre di galoppo e così la contro favorita di galoppo e il favorito è ultimo. In vantaggio Rodrigo Bip con Massimiliano Monte nei confronti di Regina Allen. I 200 senza strappo in 15 addirittura. Ricchi del Duomo che progredisce, sbaglia anche Rossano. Ricchi del Duomo va su Rodrigo Bip dopo 300 metri di gara. Problemi anche per ricorda la mia fa. Galoppa Regina Allen, una corsa per adesso a eliminazione. 33 e 400 metri si accoda Ricchi del Duomo nella scia di Rodrigo Bip. Sposta di fuori Revenge Bar e punta dritto filato da Rabarama Chiu. Revenge Bar va su Rodrigo Bip dopo 600 in 46 e 2. 31 e 1 dopo lo strappetto. Seconda curva che inizia adesso con Revenge Bar a destra di Rodrigo Bip. In seconda pariglia Rabarama Chiu coprendo Ricchi del Duomo. La metà gara si completa in un minuto e nove decimi. 37 e questo parziale. Revenge Bar tiene sotto pressione Rodrigo Bip. Quindi in seconda pariglia Rabarama Chiu. René Pallegigi che vorrebbe andarsene in terza ruota. 6 e 50 per finire il tutto. La mossa di René Pallegigi al giro in 1.16 e 3. 30 dal palo metà letto opposta. Cattivo il parziale di René Pallegigi che aggancia i primi due. Tende a sopravanzarli. Mentre Revenge Bar ha sopravanzato a sua volta Rodrigo Bip. Revenge Bar cerca la difesa da René Pallegigi che è ai suoi fianchi ed è produttivo. Un paletto in 14.9. 1.39 per i 1.200 con Revenge Bar di dentro. René Pallegigi che prende tre quarti. Rodrigo Bip ancora vivo. Poi Ricchi del Duomo che sembrerebbe avere la spenda e trova adesso la destra libera. Ingresso della retta d'arrivo con René Pallegigi che ha 1.30 in allungo. Su Revenge Bar e Ricchi del Duomo. René Pallegigi continua in vantaggio. René Pallegigi ha avuto problemi in partenza. partito come fosse in terza fila ma la prestazione di quelle che valgono e che viene a vincere facile, facile e facile su Ricchi del Duomo. Per il terzo l'errore di Revenge Bar in zona proibita potrebbe essere. Scettina centropista. 2.1.5 al totale. Misura tarabile sui due minuti per René Pallegigi. Tommaso Di Lorenzo, Mauro Baroncini. Scuderia sfina 1.89 al totalizzatore. Ha fatto questo René Pallegigi. 1.77 la quota. Sbaglia il via. Poi si riprende e vola tutto il gruppo. In particolar modo il numero 8 che sbotta di galoppo sul traguardo. Lascia il terzo posto al numero 10. Ricchette in secondo. Molto bene. Ricch del Duomo. Ricch del Duomo.